Alfonso, non lo so, ti do le spalle intanto. Rosi, basta, basta, se no mi metti. Io con certa gente non ho nulla a che fare, capisci? Io sono un umile, punto i principi, ma adesso voglio il re, voglio lo show. No, però, allora, la tagli... La tagli-taglia, questo è il problema. Bisogna prima pensare alle parole che ha detto lei e tutto il trascorso che ha fatto in queste due settimane, perché è a memoria a breve termine, evidentemente. Poi è un accumulo di tutto ciò che tu dici alla gente, ovviamente raccogli ciò che semini, tesoro. Capisci? Allora, io voglio invece puntare l'attenzione su una cosa, Alfonso. Vuoi mettermi vis a vis a vis a vis a vis? Capisci, capisci la differenza. Adesso se finisci di parlare parlo io, Rosi. Allora, perché prima hai parlato tu, se posso parlare io? Ma parli solo tu, parli solo ed esclusivamente tu, non lasci mai parlare gli altri. Allora parla di quello che devi dire e poi parlo io. No, no, tu lasci. Fai parlare la tagli, Rosi, grazie. Alfonso, invece voglio sottolineare una cosa. Allora, questo atteggiamento di nominarmi addirittura lunedì rispetto ad oggi, quando avrei dovuto ricevere la mia nomina, è proprio a sottolineare il quadretto che io ho fatto. Cioè un pensiero cristallizzato della Rosi e del gruppo, che se io anche in 24 ore avessi sconvolto con effetti speciali il pensiero della Rosi, lei non se ne sarebbe accorta, tant'è che mi ha votato addirittura due giorni prima. Questo che cosa significa? Che si va indietro e non si va avanti. Anche. Ecco. Grazie a tutti